Ciao a tutti, oggi prepareremo il baccalà con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono patate tagliate a pezzetti, baccalà già mollata e spinato, capperi, olio evo, alloro, acqua, pepe nero, sale, olive nere, prezzemolo e scalogno. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7, riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il sale, il pepe, le foglie di alloro e l'acqua. Nel cestello con il baccalà mettere le olive e i capperi. chiudere con il coperchio e posizionare il cestello. Chiudere con il coperchio senza il misurino. Posizionare il varoma con le potate che abbiamo condito con olio, sale e pepe. e cuocere per 35 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. Le patate sono cotte. il baccalà è cotto. Trasferire in una pirofila. Irrorare con un po' di brodo di cottura. Cospargere con il prezzemolo tritato e servire. Baccalà con patate. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.